ciao a tutti sono claudio il mio primo coming out è stato liberatorio sicuramente il più difficile l'inizio di tutti i miei coming out quotidiani non lo considero come un traguardo ma come l'inizio di un percorso l'inizio di qualcosa di bello sicuramente un percorso pieno di ostacoli di alti e bassi di pianti e gioie ma una volta partite andrà meglio sempre meglio